Non di età, ma di nome, e ha composto una elegia, direi, su questo luogo, e l'ha anche musicato come l'autore. Adesso, se viene qui, sta già lì. Don Rosino non ricorda di me, ma è stato il mio insegnante a scuola, un liceo artistico. Don Rosino Dicembre del 43, ovunque arriva la distruzione, in ogni luogo, in ogni paese, sulle mainarde stessa situazione. La linea Gusta venne attaccata, accardito avanzano i franco-algerini e i tedeschi che si difendono tra neve e ghiaccio e foreste di pini. La mattina del giorno 28, una pattuglia saliva sul monte, trovò sfollati su a colle lungo, e la mitraglia gli piazzò di fronte. Che follia, la guerra, uomini che si massacrano, che follia, la guerra, tante mamme che piangono ancora. Impietriti dalla paura, nessuno che capiva perché, il motivo della rappresaglia, quella mattina del 43. Erano in 42, neanche il tempo di rendersi conto, alcune raffiche e cadero a terra, e dopo solo un silenzio profondo. Tra loro vecchi, donne e bambini, uniti nell'ultimo abbraccio fatale, tra le rocce di colle lungo, era da poco passato Natale. Che follia, la guerra, uomini che si massacrano, che follia, la guerra, tante mamme che piangono ancora. Il biancomanto cambiò colore, ora il rosso su tutto prevale, tra le rocce di colle lungo, era da poco passato Natale. Che follia, la guerra, ragazzi che si sparano, che follia, la guerra, tanti ragazzi si sparano ancora. La guerra, ragazzi che si sparano ancora. Grazie a tutti.